A quasi un mese dall'elezione di Giovanna Bruno a sindaco di Andria si è ancora lontani dal riuscire a varare la giunta. Riguardo nomi e attribuzioni, in realtà la soluzione non sembra complicatissima, ma per far andare tutte le caselle al proprio posto è necessario risolvere il rebus del presidente del Consiglio. Ed è proprio su questa ambita carica che sindaco e maggioranza si sono incartati. Vuole farlo assolutamente Giovanni Vurchio, primo degli eletti del Partito Democratico, il problema è lui. Le altre liste della coalizione non sono infatti disponibili a concedere al PD che esprime già il sindaco, visto che Giovanna Bruno ne è il presidente provinciale, anche la presidenza del Consiglio. Questa la motivazione politico ufficiale, ma vittima del suo smisurato ego il Vurchio non ne vuole sapere, non si segna e minaccia scomposte reazioni politiche qualora non dovesse essere accontentato. Abbiamo buon ascolto delle voci di dentro la maggioranza. Già a gennaio cercamo di spiegare a Vurchio che non sarebbe stato mai il candidato sindaco, godendo di maggior gradimento la Bruno. Lui si risentì molto, come se fosse un nostro auspicio, mentre era soltanto la realtà e infatti il sindaco ci sembra sia Giovanna Bruno. Adesso abbiamo l'ingrato compito di comunicare a Vurchio che lui, il presidente del Consiglio, non lo farà. E il suo inutile agitarsi ha come unico risultato di renderlo patetico. Al PD sono stati offerti tre assessorati, uno dei quali a Vurchio, che non intende farlo in prima persona perché non si fida neanche dei suoi. Non che tutti i problemi derivino da lui. Anche le altre tre liste naturalmente aspirano alla presidenza. Andrea Lab 3 la chiede per uno dei suoi consiglieri, verosimilmente per Bruno, Matera o Vilella. Andrea Bene Comune punterebbe su Daniela Di Bari e futura su Cesareo Troia. Crediamo sia il momento di darsi una mossa. Il perdurare di questo blocco non depone bene come inizio di consigliatura. Il momento dei tatticismi ci sembra concluso ed è il momento di parlare con chiarezza e, se necessario, con brutalità sui tavoli politici. Non è che a Vurchio che non può fare qualcosa dobbiamo dirglielo sempre noi. A sollecitare una rapida soluzione sono ora anche i 5 Stelle e il centrodestra di Scamarcio che sostiene non si possano nominare più di 6 assessori invece dei 9 che intende indicare Labruno. La battaglia sui cavilli è cominciata.